Ragazzi vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'itemshop sul supporto a un creatore Inserite il codice creatore porto così come lo vedete scritto a schermo Accettate, da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi 1 minuto e 40 1 minuto e 40 ragazzi Attenzione a minuto e 40 Si sta tipo aprendo qualcosa sotto l'agenzia, non lo so Sento rumore di qualcosa che si apre Guardiamo un attimo le botole Manca un minuto intanto Mi raccomando ragazzi approfittatevi mentre il follow ora Mettete il follow ora Noi siamo ogni sera e live intorno alle 9 Quindi se volete aggiungermi facciamo zone war e tanti altri giochi Oltre anche a fortnite Quindi mi raccomando se siete quel genere di ragazzi che vi piace questo contenuto Seguitemi 3 2 1 Vediamo ragazzi vediamo Ok ci siamo ci siamo Stato rimandato tipo Vediamo un attimo ragazzi vediamo Sono curioso sono sinceramente curioso Guardiamo le botole aspetta Aspetta Zitti ragazzi zitti C'è qualcosa? Cosa sto tremando? Wow Regate le botole c'è qualcosa che non va nelle botole Decisamente qualcosa che non va C'è qualcosa che non va Ok si è aperta anche l'altra botola Immagino si aprono le altre due Ora avrebbe senso la cosa E infatti Sì ok terza botola aperta ragazzi Quarta aspettate vado a guardare anche la quarta No ok una si è aperta Si sta da quattro si apre qualcos'altro No si sta aprendo qualcos'altro Ok 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 si sta aprendo altro Ragazzi sono molto confuso Sono molto confuso Ma non lo so no Altra roba altre botole Cioè Sono caduto Fammi rialzare Un razzo? Secondo me sono razzi Non lo so Attenzione qualcosa sotto l'agenzia Che cos'è? Ragazzi Sono molto confuso Cosa sta Oh Calmi 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 Mi è sposto Mi è sposto Mamma mia che lag signori Ma Ok facciamo finta che le texture stiano mantenendo Anche se ho seri dubbi Vabbè sono molto confuso Si decisamente Non lo so Wow Ma che che Sono confusa? Aiuto Ma che cos'è? Ma Non lo so Ragazzi È scandaloso C'è qualcuno che ci è salito sopra No ci voglio salire sopra anch'io Vabbè hanno distrutto l'agenzia tanto per cambiare Ah Attenzione Oddio Che ci ha dato? Ci ha dato un mega potere Possiamo saltare in aria tipo ora Si ci sta facendo fluttuare ragazzi Più o meno fluttuiamo I pugni nelle mani Wow Cos'è? Cosa? Ok si stanno connettendo Si stanno connettendo alle Ok vabbè l'avete capito? Ma ci sta facendo salire Stiamo salendo tutti? Attenzione Sta Sta lanciando via la safe Ok si si La safe si sta prendo Stanno buttando via la tempesta Nel prossimo Fortnite Non c'è più la tempesta Dico No vabbè Scazza da parte Vediamo un attimo Tutto bianco? Tutto bianco Troppo bianco Cos'è? Cos'è sto Fortnite prima persona? Regà Cos'è? Ma sono Sono in uno studio Non ho capito Non ho capito Tornatici No ragazzi Succede pure qualcos'altro Sicuramente Tranquilli Tranquilli Stiamo a vedere Ci ha riportato? Ci è stato di nuovo l'effetto? Ok si è riattivato tipo No 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 dai Fammi saltare Fammi saltare Perché mi feca dire? Si è riconnesso? Si sta riconnettendo ragazzi? Ok La safe La stare Sta tipo combattendo Contro la safe Ma sono confuso Cosa sta facendo? Ma quell'ufficio Non lo so raga È tutto così strano Ok Sta aprendo Sta aprendo Ok Non c'è più la safe Tutto è ritornato alla normalità Sembra Ok Ottimo Una prospettiva Ottimo Non so come l'ho ottenuta No Fra l'evento Fra l'evento Fra l'evento Sì Ma questo era? Ma cos'è sta roba? Sono confuso Quello cos'è? Non lo lascia stare Lascia stare Sono confuso raga Ma cos'è? C'è altro? Interferenza Interferenza? No Ah ok 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 Aspettate Mi metto anche io sopra? No Ok ci sono Ci sono Sì infatti Questo mettiamo Fortnite Ha distrutto l'agenzia Ston No Oddio Sono entrando insieme Raga Oddio Ok Non è niente di stabile Stiamo agendo Janice Janice Yell the resonance Ok Ora Ok stanno prendendo tipo la connessione Stanno facendo un casino tipo Aspetta aspetta Non è giusto una tempesta Cosa significa? Dobbiamo connetterla al loop Non c'è nessun modo di predire come reagirebbe Scusatemi se non l'ho tradotto bene ragazzi Ho avuto poco tempo per farlo C1 in inglese lol Aspettate raga Ragà Ragà abbiamo un problema tecnico Ragazzi qualcuno può costruire un po' più in alto Ragazzi Qualcuno è in materia Ragà C'è un problema C'è lo yacht C'è lo yacht C'è lo yacht È vero Ragà qualcuno può salire Quella struttura non sarebbe male per salire Ci sono dei piccioni ragazzi Dei piccioni Vabbè C'è un problema Non so cosa stia succedendo Però c'era uno squadro Ho notato me Ha funzionato Quanto penso Quanto tempo pensi Che durerà È tutto a posto Stiamo stabilizzando Nulla sembra Oh Cosa Ragà che voglio Giorgina Vediamo cosa succede ora È tutto bianco sì Ma ragà c'è un cazzo Non sto capendo più nulla Ok siamo nel bus Cos'è quel pizzo sulla destra Lo vedete quel pizzo sulla destra Sì Motevers Nuova isola regà Nuova isola Eccola Regà Regà No regà È di agency È di agency È di agency Calmi 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 È di agency È tutto ricoperto Potete ringraziare il bus driver Non ha di nuovo Ma io non ci riscendo Regà Io non scendo Io ho paura Cade l'acqua tipo Oh 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 Frame lag Madonna il panico Mi sono lanciato regà Io attivo il paracadute per sicurezza Eh Attivo subito Lo yacht è affondato Lo yacht non c'è più Infatti Controllo in giro Ma non sembra ci sia Due giorni così sarebbe molto cringe Effettivamente Ah no Se stai fuori Ok ti elimino Ok Vabbè Ragazzi ma c'è qualcosa che non va Aspettate Cioè Da ora c'è solo per Finché non c'è il prossimo aggiornamento C'è solo sta roba No dai Il mare e la tempesta Sì sì Vuoi notare nella tempesta Sì ho notato Ho notato Oppure io ci ho provato Però tipo Mi ha tipo distrutto Va bene Però l'agenzia cosa ti cambia Dici tu Giustamente Tony Sì effettivamente Sono mezzo a armare Amo Sono mezzo a armare Mi sembra un po' troppo banale Questo evento Ragazzi Ma vi rendete conto Che non è finito Cioè l'evento questo era Secondo voi La mappa è finita Ci sarà sicuramente qualcosa Ragazzi Ci sarà ovviamente qualcosa Di nuovo Di diverso Che cambierà E stravolgerà tutto Però cavolo Tutta la gente che diceva La mappa si allagava Cioè ci ha azzeccato Più o meno Ah ma è un fan È un fan È un fan Rega questo Lol Strange Credo che l'evento A questo punto sia finito Per ora Dato che non abbiamo avuto Altre notizie Cioè due e mezzo è scarso Per quanto mi riguarda Però deve continuare Dobbiamo vedere cosa buttano fuori Il mio voto potrebbe cambiare Vediamo ragazzi Stiamo a vedere Grazie a tutti